Meno due al campionato 2023-2024 della Vispesero, il sesto consecutivo in Serie C per i Biancorossi che a 48 ore dallo star di Ferrara in casa Spal hanno fatto tappa nella sede del main sponsor Tecnoplast per presentare i nuovi acquisti a disposizione di Mr. Simone Banchieri. Novità quasi esclusivamente millennial in osequo alla linea verde annunciata dalla società. Da Silla all'Oru, passando per Ceccacci, Diop, Peixoto, D'Apozzo, Blu Mamona, Nelson, Chemaiu, Foresta, Iervolino e portieri Neri e Mariani. Giovani di belle speranze, ultramotivati verso una stagione in cui crescere e migliorarsi. Prerequisiti fondamentali per l'allenatore. Attraverso il sacrificio, la sofferenza e poi l'organizzazione e poi io dico la felicità di fare calcio poi si possono arrivare a risultati di squadra magari maggiori di quelli che ci si aspetta. A differenza di ciò invece se questo aspetto non è molto presente si rischia di non essere altamente adeguati a una categoria che conosciamo difficile però affascinante perché il campionato affascinante come ho già detto in altre occasioni sembra una B2 e quindi dobbiamo farci trovare pronti sotto tutti gli aspetti fisico, emozionale, mentale, tecnico-tattico perché sicuramente poi l'aspetto tecnico-tattico è importante. Nuovi arrivi che hanno anche ricevuto l'input al lavoro e al sacrificio dal main sponsor Tecnoplast Enzo Camillini. Per poter arrivare dove vogliono arrivare loro devono veramente fare tanti sacrifici e la possibilità c'è. C'è e basta crederci. Se uno ci crede ci sono le possibilità per arrivarci. Giovani che investono sulla loro stagione a Pesaro così come diventa un campionato in cui si gioca tanto Mister Banchieri confermato dopo il miniciclo di partite di aprile valse la salvezza diretta. Ho avuto questa opportunità che mi ha dato il presidente Bosco il direttore Menga il 3 aprile e poi le cose sono andate molto bene come sapete tutti ora si riparte dall'inizio nel calcio si azzera sempre tutto si riparte con una rinnovata motivazione e ambizione sappiamo come diciamo sempre che dobbiamo sostenere il club e soprattutto avere una sostenibilità economica in un momento difficile per il paese economicamente non in particolare per qualcuno quindi mantenere la categoria, valorizzare i giovani e poi io spero che come ho detto ieri noi viviamo di una proprietà transitiva che ci piacerebbe vedere felice gli altri allo stadio vorrebbe dire che abbiamo mostrato un buon prodotto che giochiamo un buon calcio e soprattutto la cosa più importante è che facciamo risultati il direttore marketing Guerrino Amadori ha annunciato come anche quest'anno ci sarà la campagna abbonamenti fugando i dubbi legati ai lavori allo stadio che però sembrano rispettare il cronoprogramma che dovrebbe costringere la VIS a migrare dal Benelli soltanto nelle prime due gare intanto la testa è solo rivolta a Ferrara e al lavoro necessario per farsi trovare pronti c'è sempre da migliorare nel calcio anche quando si fanno grandissimi risultati e quindi questo è un tema specifico che mi caratterizza però poi è un ottimo gruppo è una squadra che va aiutata sostenuta da parte di tutti dal pubblico, come ho detto prima ai giornalisti, a tutto l'ambiente che ci circonda Unità di intenti invocata da banchieri in cui calza a pennello il sostegno pluriennale di Tecnoplast ho sempre controllato la VIS da fuori ho sempre avuto lo stadio, magari andavo sul prato arrivavo ogni tanto per vedere qualche partita perché sono sempre stato un tifoso della VIS non scatenato, ma sempre stato un tifoso ma anche un appassionato di calcio sono qualche anno che sono dentro come mi sponsor in questo momento sono contento ho un bel rapporto con la società, col presidente con Guarino Maduri che ci sentiamo spesso so che la società fa tanti sacrifici per poter sopperire a queste difficoltà perché come dicevo prima ci stiamo confrontando dico ci stiamo perché faccio parte della tifoseria confrontando con delle realtà veramente importanti stiamo parlando di società che hanno fatto la Serie A società che sono veramente di un'altra categoria ma al di là di un'altra società molto molto importante perciò da parte nostra è stimolo ma anche per le ragazze di giocare con queste squadre potrebbe essere anche un trampolino di lancio per mettersi in vetrina per il loro futuro